Ciao a Betis.it! Prima di incontrare Dante in forma di quadrupede, cane sciolo, sciolo squintli, cane messicano, cane nudo messicano, con la lingua che gli va de qua e de là a sto cane perché non ha i denti e la lingua è incontrollabile penzola da tutte le parti, prima di incontrare il cane dalla lingua penzolante, sciolo squintli, sciolo, di nome Dante che accompagnerà il nostro eroe verso un viaggio in direzione della terra dei morti, quindi è un omaggio esplicito da parte dei geni della Disney Pixar al nostro, ieri Dante, prima di incontrare Dante come cane dentro Coco, va bene il cartone animato che fra poco esce in sala, incontriamo Dante, all'inizio di questa videorecensione degli sdraiati di Francesca Archibugi tratto da best seller del 2013 scritto da Michele Serra. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Giorgio Selva è il protagonista di questo film e lui si trova in una selva oscura, nel senso che Giorgio proprio non ci capisce niente, è in una selva oscura perché non capisce come mai il suo figlio adolescente sia così incontrollabile, sia così oscuro all'interno della sua percezione di padre, è un padre divorziato, è un uomo molto ricco, è un autore, presentatore televisivo mainstream, è una persona che quando cammina per strada viene riverito, tranne uno, da tutti, un po' come il Jerry Lewis di Re per una notte, un po' come l'Adam Sandler di Funny People, un po' come lo Sean Penn di This Must Be The Place di Paolo Sorrentino, un po' come appunto queste celebrità di oggi, perché vedete, la celebrità in Italia oggi non viene assolutamente contestata. Questi negli anni settanta, e parleremo un po' di quel momento là, di quella generazione là, le celebrità nel mio paese anni fa addirittura venivano contestate, perché erano celebrità, pensate come è cambiata la politica, e non solo sociale, e non solo nel mio paese, anche negli Stati Uniti d'America, c'erano attori hollywoodiani che andavano, chiedevano per cortesia, fatemi entrare nelle case degli estremisti, fatemi venire a fastidio, e anche in Italia era così, soprattutto da parte di persone di sinistra, o di estrema sinistra. Oggi è tutto cambiato, oggi c'è in questo paese neomedievale, e costantemente pronto al fascismo, che è l'Italia, c'è, ovviamente bisogna riverire, se è tutti a capochino, se è famoso hai vinto, e questa è una cosa agghiacciante tra le tante cose che non mi piacciono della contemporaneità, allora Giorgio è un vincente, graficamente, l'archibugge è molto brava, graficamente per le strade di questa Milano, che lui spesso e volentieri, ci sono tante inquadrature di Giorgio, che cammina, che entra in ambienti, ok? Beh, la gente arriva e gli chiede il selfie, Giorgio è famoso, Giorgio è ricco, Giorgio è potente, e quindi che problemi hai? Questo è molto interessante perché è un tema di oggi, che problemi hai? Sei famoso? Hai fatto? Questo è il nichilismo. Allora, questa è l'Italia. Allora è interessante perché Giorgio invece ha dei problemi, non capisce perché suo figlio è così turbolento, ed è così irrequieto, ed è così sfuggente alla sua identificazione anche, no? Lui che è un uomo di sinistra, oh, e qua arriviamo alla meglio gioventù. Sì, questo è un film non per loro, anche per noi, soprattutto è un film pensato da loro, scritto da loro, è molto su di loro, però che noi dobbiamo vedere, noi dobbiamo analizzare, perché la cosa riguarda anche noi, e anche voi, se siete più giovani di me. La meglio gioventù è una generazione che io detesto a livello politico, politico vuol dire banalmente allargare, no? Uscire dal privato, ne ho conosciuti molti personalmente, ne detesto molti anche a livello personale, non li sopporto, non riesco proprio a stare con loro, non riesco a guardare, dopo dieci minuti che prendo un caffè con questi mi viene voglia di spaccargli la testa, perché sono dei bambocci viziati, secondo me, figli di un momento storico del nostro paese molto bello e interessante, che poi li ha portati poi a diventare classe dirigente infima degli orribili ultimi 27 anni, se non di più, di vita nel nostro paese. Sono adesso molto ricchi, a differenza della mia generazione, sono molto distanti, vivono nelle loro torri d'avorio e ancora li vedete magari che vanno nelle talk show e ci spiegano come bisogna vivere. È una generazione di perdenti, è una generazione che dovrebbe semplicemente togliersi dalle palle il più velocemente possibile per permetterci di costruire questo paese che anche loro hanno distrutto, ma allo stesso tempo mi vergogno di tutto ciò che ho detto, anche se lo penso e sono anni che maturo questa convinzione vedendoli e parlando con loro perché sono abbastanza insopportabili, però allo stesso tempo it's too late, it's too late to be hateful, it's too late to be late again, come cantava David Bowie. Quindi è troppo tardi, ormai nel 2017 nel mio paese, per essere così rancorosi, stupidamente rancorosi. Allora il film, a prescindere da quello che possiate pensare di questa generazione, Michele Serra è un eroe della meglio gioventù, io mi ricordo ancora la gioia che avevo quando leggevo Cuore, è stata per me un'esperienza incredibile, poi Serra è diventato un immenso protagonista, politico, quando c'era ancora la politica, pensate, litigava, entrava, usciva il PC, il PDS e poi è diventato un autore televisivo, questo è molto simile a Giorgio Selva, che chiaramente è un suo alter ego anche del libro che ha scritto Michele Serra, da cui è tratto questo film. Serra è di canno del buon Michele del 1954, erano i miei eroi e hanno completamente tradito non solo la mia fiducia, ma hanno tradito il paese. Pochissimi di loro lo riconoscono, perché appunto sono abbastanza antipatici. Claudio Bisio, che lo interpreta, è del 1957. Francesca Archibuggi, che dirige questo film, è del 1960, ma la chiave del film è l'Archibuggi, perché c'è tutto un discorso sull'universo femminile che è la vera, secondo me è il vero asso nella manica di questo film. Giorgio non capisce, ha dei momenti di mistero, non solo legati al figlio, ma legati anche al mondo femminile, che per lui è sfuggente, rappresentato soprattutto dalla sua ex moglie e dalla sua ex amante, che ha avuto un ruolo, veniamo a scoprire all'interno del film, in relazione alla sua separazione, al suo divorzio. Allora il film diventa, c'è un sottofilone di questi qua che, ma come eravamo contestatori, adesso veniamo contestati dai nostri figli, capita. Perché c'è un discorso sia ovviamente astorico, per non dire mitologico, anche Luke Skywalker non solo litigava col papà, ma lo prendeva, se prendevano a lightsaberate, ok, dentro Guerre Stellari. Si è sempre litigati tra noi e i nostri genitori, ok, nel 1600, nel 1700, in una galassia lontana tanto tempo fa, e anche nel 2017, come loro litigavano con i loro genitori, negli anni in cui erano adolescenti, no, ok, metà degli anni 60, primi anni 70. Quindi c'è, è interessante perché c'è un tema mitologico, la contestazione del figlio maschio, soprattutto nei confronti del padre. Il libro di Serra è bello, ci sono bellissimi momenti in cui lui racconta appunto come è difficile per un maschio passare da quest'amore per una creatura piccola che poi si gonfia, assume la tua voce, diventa quasi come te, diventa più alta di te e te vuole ammazzare. Poi c'è il, quindi c'è il tema mitologico e poi c'è il tema storico, politico, questo momento storico, dove questi della meglio gioventù li odiamo, è giusto che li odiamo, da un punto di vista politico, non mi fraintendete, perché effettivamente sono, hanno la pensione che noi non avremo, hanno, io parlo della mia generazione, io so qui li smetto quando voglio, Jagal e Pils, state messi ancora peggio ovviamente, mentre questi sono gli aristocratici. Oh, è bello che ci sia Francesca Archibugi alla regia secondo me, non perché un uomo sarebbe, ma secondo me un maschio sarebbe stato più complice di Giorgio, invece l'Archibugi, che è una grandissima regista che io amo molto, un enfant prodigio che nel 1989 vince il suo primo David a nemmeno 30 anni d'età, già regista e donne in Italia a zero. Questa è un talento puro, mi piace, poi ha avuto affaticato come tutti la grande Archibugi, come tutti, perché per questo che da orrido critico io amo i creativi, perché poi una donna, capirai, in un paese maschilista di destra come l'Italia, capirai, però lei è forte, va bene, io amo molto Francesca Archibugi e mi piace che collabora con Virzi, fa questi film borghesi, lei stessa è del 1960, quindi appartiene a questa generazione, noi contestatori siamo contestati dai nostri figli, Francesco Bruni, lo sceneggiatore di Virzi, ci ha fatto due film su questo tema, perché nella sua vita ha visto suo figlio Reparolo che è diventato un nichilista agghiacciante che canta delle canzoni pure brutte, secondo me, orribili, in un gruppo rap che mi hanno detto i veri giovani che è uno dei gruppi più, capito, legati a criminalità o quantomeno a un'idea di criminalità, perché lo sapete che i rapper si devono da questa cosa criminale, gangsta, beh, Francesco Bruni, capirai, uno dei sinistra che è cresciuto a fare il cinema dei Virzi sul provinciale di sinistra, eroico, il candido, lo so, così, che si trova sto figlio nichilista, figlio pasciuto, ricco, capito, è come gli intellettuali degli anni 70 che avevano i figli che diventavano terroristi neri, che dicevano, no, ma dopo ho sbagliato, io sono compagno, interessante. Bruni, scioccato da sta cosa, ci ha fatto due film, uno più carino dell'altro, Scialla e tutto quello che vuoi. Questo film rientra nel filone, perché chiaramente Giorgio Selva è Michele Serra, chiaramente Giorgio Selva è anche Claudio Bisio, chiaramente Claudio Bisio è anche Michele Serra, chiaramente Michele Serra ha lavorato per dieci anni a che tempo che fa di Fabio Fazio, e quindi Bisio in questo film presenta una trasmissione praticamente identica, è tardissimo, mi piacciono le donne in questo film, è in questo che c'è l'archibugi, e qua mi fermo, perché potremmo andare avanti altri 40 minuti di video recensione. L'interessante è il punto di vista femminile, le donne sono il futuro, le donne sono il futuro e qua Serra archibugi fanno una cosa molto interessante, la donna è presidente del consiglio, presidente o presidentessa, dell'Italia immaginaria e immaginata degli sdraiati, allo stesso tempo poi c'è un momento molto bello in cui Bisio, che non capisce un cazzo di questi ragazzini nichilisti, e te lo spiego io, sono cresciuti nell'Italia vostra, sono cresciuti nell'Italia che ci avete consegnato, guarda un po', è un miracolo che non vanno in giro a spaccare appunto le vetrine e i bancomat, è un miracolo. Infatti è ridicola la contestazione di Bisio a questi adolescenti, che sono anche secondo me pure simpatici nel film, insomma io ne ho visti molti di peggio, io ero pure peggio, sono strascicati, stravaccati, un po' strafottenti come si è quando avevamo quell'età, e contestano e prendono per il culo, hanno tanto tempo a disposizione, tanto tempo per big e lonare, vanno in giro in bicicletta, interessante questo recupero della bicicletta di questa generazione, è vero. Allora vabbè, insomma basta, potrei andare avanti all'infinito perché è un film che mi interessa moltissimo, che racconta di una generazione che io detesto, chiave però per capire l'Italia del dopoguerra, la meglio gioventù, quando vincevano, quando sognavano, quando pensavano di aver vinto negli anni 90 con Lulivo e quando poi hanno perso clamorosamente, in questi anni, allora Serra che è uomo intelligente e genio, è uomo sensibile, Serra sa che è andata così, cerca però di capire, e allo stesso tempo dice ho capito ma io non è che posso andare in giro a spararmi sui coglioni, l'archibuggia allora punta tutto sulla donna, la donna è il futuro, la donna è il punto di vista, la donna è il mistero e Antonia Truppo dimostra di essere una grande attrice perché dopo i due Davidi di Unatello consecutivi, gig e indivisibili come campana, Antonia dimostra di essere una grandissima attrice perché parla in un'altra lingua, ed è il mistero, ed è la scena più bella del film, Antonia Truppo, ex amante di Giorgio Selva, Giorgio se fa un sacco dei pippone, poi forse sarà appunto Antonia Truppo a spiegargli come funziona la vita e a dargli una prospettiva che il maschio non può avere il maschio dominatore che non può più dominare, infatti vogliamo Donatella Finocchiaro, presidente del Consiglio in Italia, vogliamo che la donna esca anche dal dibattito come oggetto di violenze, continuamente oggetto di un dibattito che la vede appunto come vittima, vogliamo che la donna entri come soggetto nel futuro del nostro paese, secondo me di questo parla gli sdraiati e secondo me solamente una donna regista come Francesca Archibugi poteva arrivare a darci questa impressione fortissima, c'è molto altro da dire del film, ma ci fermiamo qua, ciao betteist!